ragazzi sono venuto a rompere le scatole per voi che alla mattina cominciate a scrivere boh ma stasera cosa fai alberto vergani ciao ragazzi disturbiamo durante il lavoro però abbiamo voglia di ci siamo visti tante volte via zoom ormai questi distanziamenti che momento è poi parliamo di motorsport ai anzi il momento nel cazzo lo dico io no dipende da che punto di vista però è un momento un po di la gente guardinga sul futuro per cui bisogna capire in italia come nel resto del mondo bisogna capire cosa cosa ci aspetta per il futuro io sono sempre ottimista però insomma le aziende sono abbastanza attente all'imprevisto ecco questo è un po certo il mood c'è stato un momento dopo la riapertura diciamo di grande euforia continuano fortunatamente le vendite ad andare abbastanza bene però è chiaro che a quelle euforia fuori di quel momento adesso si contrappone un momento di grande punto di domanda per cui forse un po più di tranquillità però devo dire che se riusciamo a sbagliarla con queste modalità ma la vita continua cioè bisogna cercare di convivere col problema e trovare la soluzione per per arginarlo ecco questo un po certo quello che speriamo succeda senti tu sei un grande appassionato oltre che un grande esperto di motorsport e riprendono da dove ci siamo lasciati ieri sera con tonio liuzzi pieno a lievi gianni giudici e gli amici della delle moto gp perché ci sembra che la moto gp sia in un momento nonostante tutte le problematiche no che ben sappiamo non dobbiamo ripetere di grande successo in un futuro abbastanza roseo fa contrapposizione invece la formula 1 che sembra essere in una crisi spaventosa io mi sono permesso di dire in trasmissione che faccio fatica a veder le gare e lo dico non per sparare contro scavoli contro questo contro quello non è un problema dei risultati di ferrari perché fortunatamente mi piace vedere le gare non ho una squadra preferita io ho la sensazione che in tanti come me facciano fatica a star lì a vedere il gran premio per intero non ho più quelle sensazioni alla partenza cosa che invece ho ancora in moto gp c'è un motivo secondo te per cui la moto gp sembra funzionare ancora come prima invece la formula 1 un po più in crisi beh io sempre guardato le gare di formula 1 in passato ultimamente se le perdo non è un problema anzi non le guardo intanto devi capire dove le puoi vedere perché se non sei con sky o sky go sei in giro per il mondo e fai l'abbonamento e così via però il problema è che sai già quale risultato perché vince emilton vince bottas e questo è il risultato devo dire la verità quando l'anno scorso leclerc aveva fatto quelle gare un po così dove scompigliava il gruppo mi ero appassionato due tre gare le guardate ma non perché era la ferrari ma perché c'era un pilota che sovvertiva un po i pronostici e che andavano per le scatole come fai vedere un evento sapendo già chi vince puoi fare puoi scrivere la classifica tre mesi prima perché comunque primo secondo sono loro due poi c'è verstappen poi sì adesso la renault qualcosina fa però viene a mancare la pilla del risultato mentre dall'altra parte moto gp caspita c'è una bagarre diversa e vabbè tolto marquez che adesso è fuori c'è la possibilità che vincano in diversi diverse case così via però scusami è aperto già un discorso di là perché nello sport io dico sempre tennis nello sci i quattro più forti bene o male sono sempre davanti arrivano sempre noi semifinale di okovic nadal cioè capisci cosa voglio dire nella moto gp secondo me questa questa totale anarchia fuori market mi sembra un filo eccessiva cioè io un pochino le non dico le lamentele però le riflessioni dei piloti no io vedere olivera sono felice che vinca olivera sono felice vedere binderla davanti però quando poi vedi quelli buoni che remano dietro secondo me nello sport le categorie valori esistono esisteranno sempre sono sempre esistiti ci sono delle cose ogni tanto che non tornano forse c'è un dj che miscela bene la musica però la politica è divertimento vero allora vabbè chiaro che poi dopo quando capisci che le gomme condizionano i risultati in maniera clamorosa ti fai due domande no per cui che poi ci sia una regia o meno non è dato da sapere sicuramente questa cosa rende interessante perché poi in una stagione così disastrosa dove il campionato non è un campionato mondiale ma un campionato europeo dove ci sono le gare sulla stessa pista e dove i risultati sono potrebbero essere in fotocopie gara per gara questa questa miscelazione rende interessante per il pubblico alla televisione la gara ecco poi dopo come mai perché per come è tanto evidente in qualche caso veramente disarmante cioè io penso a quarta raro a misano che sembrava un deficiente poverino no è vero che queste gomme hanno un po sovvertito come dire le caratteristiche perché io vedo in ducati danilo e anche dovizioso insomma questa gomma posteriore ha un po creato uno scompiglio devi cambiare stile di guida magari non tutti riescono e poi è strano che magari noi amaca una volta va una volta non va insomma c'è qualcosa di comunque di inusuale diciamo una parola politica inusuale che rende la cosa interessante sono questo un po tesi per lo meno c'hai voglia di vedere come va a finire per la gente comune è interessante poi magari la gente ti dice anche cazzo però non sono dei nomi che vincono che non conosco che poi alla fine il brand quello che attira cioè valentino attira perché la gente vuol sapere come cosa fa valentino rossi i nomi sono quelli lì quelli che attirano che sono quelli di notorietà mondiale è vero che c'è un ricambio per cui è giusto adattarsi a nomi nuovi che oggi magari possono sembrare boh da dove arriva questo qui e poi sono i campi nel futuro senti io li dico spesso in trasmissione sempre amichevolmente con pernati con pessino perché sostengono che la scelta di ktm la scelta giusta che ducati si è omologata al fatto di appuntare sui giovani io rimango dell'idea che la scelta di ktm sia stata una scelta forzata nel senso che non avendo il grano per andare a cacciare i big hanno optato per questa per questa linea che per carità sta pagando pagherà tu di che di che opinione sei e poi hai sconfitto tuo omologo battistella nel senso che danilo e andrea sono compagni di squadra però tu alla fine danilo in ktm sei riuscito a portarcelo ma allora partiamo da strategia di ktm è una strategia red bull che è quella di allevare i giovani e poi portarli fino alla moto gp che ha funzionato quest'anno hanno bucato con martin e con polis pargolo che andavano via per cui io mi sono infilato nell'unica possibilità oltre alla periglia che poteva esserci forse con sicuro non forse sicuramente con una richiesta economica completamente diversa da quella che poteva avere dovizioso anche giustamente che era in linea con le esigenze aziendali della ktm per cui non è che lo sconfitto ma ero più come dire affamato di loro e la cosa è andata bene anche perché quando noi abbiamo firmato ktm non era così nella hit dei sogni dei piloti oggi invece tutti la considerano come super interessante quando abbiamo firmato noi se guardavi la classifica dicevi insomma è un passo indietro rispetto ovviamente la ducati in questo momento diventa una diciamo una factor interessante anche perché è all'inizio di un percorso però già ha portato a vincere due gare per cui insomma danilo in quel caso lì quando veniva contratualizzato era l'unico ad aver vinto un gran premio nel diciamo nel pacchetto dei dei piloti ktm in questo caso non è più l'unico per niente 22 non è stato il primo a vincere con la ktm ma sono stati loro per cui molto bravi ok tu hai già citato il discorso di andrea e danilo che fanno fatica con questa gomma mentre bagnaia evidentemente sta conoscendo un momento anzi assolutamente di splendore che lo porta a entrare nel team ufficiale ti ricordi quando siamo sentiti nelle trasmissioni durante il lockdown bagnaia potenzialmente poteva non avere un posto neanche in prama ti ricordi alla luce risultati che aveva e lui era ben consapevole di questo ora dico è la gomma si è scoperto ma ben sentito già è l'anti market ci sono queste robe arrivano veloci ti dico qual è la spiegazione tecnica che magari non tutti non sanno cioè sicuramente non sanno però lui ha una frenata cioè frena dopo e frena con una pressione di bar inferiore per cui la moto rimane più pari mentre sia danilo che dove frenavano in maniera più aggressiva per cui alzando la volta dietro riducendo il potere di franta la volta dietro questa roba qui ti fa diventare la moto come se fosse sottosterzante cioè che arrivi lungo e non riesci a girare danilo mi ha detto che in queste ultime due gare è riuscito a trovare la quadra per per cambiare questo stile di guida però immagina tu che devi arrivare in fondo un rettilineo di frenare di pensare che alla pressione di bar di essere inferiore a quella che di solito si è abituato a fare quando invece magari tu arrivi lì e cerchi di pinzare più possibile cioè non è così immediato per cui questa cosa l'ha portato a essere più competitivo dove l'anno scorso invece bagnaia non era per niente competitivo anzi era messo un po sotto esame per cui onore merito bagnaia che è riuscito a trovare la quadra adesso tutte e due devono devono correre ai ripari ecco è anche curioso che uno come dovizioso faccia molta fatica come la sta facendo danilo perché fino all'anno scorso era il contender di di marquez però ma perché è così difficile così complicato correre per ducati c'è la storia purtroppo ci insegna che ci sono stati tanti tanti contanti che tu hai vissuto in prima persona è perché da chesi in avanti hai avuto occasione ma già con marco insomma il clima in ducati è che devi devi far risultato per forza no per cui come giusto che sia attenzione dove cavoli gli ha fatti è vero tre volte vice campione però possono essere ritenuti ha fatto risultati ma non ha vinto se non vinci e se il primo dei perdenti per cui insomma diciamo che la factory vuole esige la vittoria è vero anche che l'ho detto una volta domenica detto comunque tu hai vinto i due mondi gli ultimi due mondiali anzi gli unici per moto gp l'unico con case che era un mio pilota e carlos e l'altro con carlos in superbike è l'ultimo gran premio è l'ultimo mondiale vinto dalla ducati in superbike non è facile non è facile leggevo un'intervista molto bella di johnny ria orea come vogliamo chiamarlo che diceva che lui non vince da solo ma vince perché è cinque anni che guida quella moto c'è un team molto affiattato cioè c'è quell'equilibrio che ti permette di arrivare al risultato che è il segreto per vincere oggi dove se tu guardi la classifica quando magari hai 20 piloti 9 decimi cazzo è proprio inevitabile questa cosa qua cioè devi andare a limare da tutte le parti per cui ci deve essere questa confidenza con la moto col team e così via fiducia cioè quell'energia positiva che ti porta ad avere quel qualcosa in più perché l'esempio dell'anno scorso quando bautista volava e lui prendeva paga non si sono disperati si sono messi lì con calma a cercare di ottenere il risultato e paradossalmente è andato in crisi invece bautista faceva un filotto di cadute prendendo il mondiale che sembrava già vinto tra virgolette per cui questo questa serenità a volte viene a mancare per mille motivi anche magari per il cambio dei piloti io mi ricordo per esempio quando seguivo carlos che eravamo in ducati l'hanno giubilato a mese di giugno luglio e poi a fine stagione invece lui ha iniziato a andare bene con la moto ma non puoi fare un anno solo con un pilota lo stesso livio suppo che era allora team manager mi disse abbiamo fatto un errore a molare carlos per prendere gibernao che fece un altro anno disastroso cioè questo continuo cambiamento non è positivo perché non è così facile trovare la quadra tra moto tecnici perché veramente c'è una compenetrazione di aspetto umano di tecnica che è un'alchimia difficilissima da far quadrare per cui quando l'hai trovata non so se vedi anche in formula uno schumacher ha fatto un po di anni prima di essere il mattatore che è stato però c'era una compagine che ha lavorato con continuità e allora lì arrivi al risultato ecco non è facile poi il jolly fu stoner ma anche lì perché stoner perché c'era il cambio di regolamento si passava dall 800 alle 1000 lui ha preso la moto nel verso giusto è stata una roba che nessuno pensava la stessa cosa a quarta raro perché sfido chiunque degli addetti ai lavori a pensare a quarta raro fosse un contender di marquez quando io stesso ho chiesto l'in jarvis come mai preso la quarta raro fa il talento non svanisce mai poi gli ho fatto i complimenti metto caspita bravi perché avete visto oltre come dire della persona comune perché hanno riusciti a vedere una roba poi magari è stato un jolly come come quello che ha pescato olivio prima con stoner poi con marquez perché anche marquez con una scelta obbligata si ritirava stoner lui l'avrebbero messo nel team di lucio perché c'era la regola del rookies questa regola l'hanno cambiata per far arrivare lui e lo stesso olivio mi disse guardano prossimo mondiale vinceremo con pedrosa che forte così invece invece marquez devo dire che melandri mi disse questo vince il mondiale primo anno e lo disse anche da voi in trasmissione tra è vero perché ecco marco è uno che vede al di là cioè uno che riesce a capire il talento dei piloti e ha detto qualcosa di simile ha elogiato quarta raro se non ricordo male già l'anno scorso ha detto occhio perché lui è qualcosa io dico che loro si annusano sotto la coda capiscono di che pasta è fatto uno o l'altro prima di andare su marco perché vorrei la tua opinione da babbo non da non da suo manager storico però hai detto qualcosa della delle squadre che ritrovo in quello che è stato detto ieri sera da liuzzi e da pino che parlano di mercedes in formula 1 come di un'entità diversa da tutto il resto cioè dove tutto funziona però non a caso alberto a capo c'è un grande il tanto odiato vituperato dagli italiani toto wolf io credo che farebbe le fortune di qualsiasi team di compresa la ferrari perché quando hai a capo uno che ha una testa che viaggia al doppio degli altri sia a livello manageriale che a livello di organizzazione della dell'azienda perché qui non si parla più di una squadra e basta ma di un'azienda vera e propria poi è difficile risultati non arrivino mi è entrambi sia tonio che fa il giudice per la fia per cui frequenta circuiti che pino mi ha detto che quel box è l'esempio di come dovrebbe essere un team di formula 1 guarda io dico che si chiama la forza del buon senso toto wolf non è un extraterrestre è uno bravo che sa capire le persone al loro livello per cui il tecnico di cosa bisogna il tecnico il pilota cosa bisogna il pilota cioè è un po come dire uso lo stesso cacciaviti per tutte le viti no devi variare il numero del cacciavite in base alla vite che hai cioè il pilota è un'entità l'ingegnere un'altra entità cioè devi far coesistere soggetti diversi con un amalgama che non crei frustrazione che crei con la motivazione extra perché io sentendo i piloti si ricordano delle delle stupidate che magari hai detto delle cose infinitesimale e poi non pensare quando uno in moto non pensa cioè quando è in moto a una marea di cose che gli vengono in testa che lo motivano o lo demotivano per cui anche perché ripeto quando sei a lottare coi millesimi devi tirare fuori qualcosa in più che è dato da da te stesso cioè non non è più neanche un fatto tecnico perché il fatto tecnico è arrivare a darti la moto che ti dà confidenza poi da lì a farla vincere è la confidenza è l'uomo che dice ok vado al di là del limite cioè mi fido perché poi il problema è quello lì di entrare in curva e sapere che ci stai e dunque la fai in modo diverso rispetto agli altri può essere fatto di pensare troppo il l'esito di tante gare di vignale se ti sei fatto una domanda su il perché non riesce ad avere una linearità di prestazioni ma vignale non lo conosco personalmente lo vedo dal di fuori mi dicono che uno molto molto instabile ne avevo parlato con ramon forcada che è uno esattamente all'opposto cioè che un cammiratore che uno che ti fa ragionare e ti segue molto bene lui non so per esempio ha fatto le dichiarazioni da l'età la moto è una merda la gara dopo vince cioè diciamo che bisognerebbe registrare un po il minimo nel senso che non è vero che è così non è vero neanche che cosa cioè devi trovare un bilanciamento ecco lui non mi sembra da fuori non mi sembra uno ben inquadrato ma lo stesso Quartararo quando ha visto che è diventato più difficile se tu vedevi non rideva più nel box come rideva di solito sulla griglia di partenza imprecazioni in moto ogni errore cioè gli è cambiato infatti se tu guardi come ha esultato dopo la vittoria in spagna proprio perché cominciava a sentire la famosa pressione perché quando arrivi è facile poi dopo mantenersi lì si chiama la cottura la temperatura del pilota che ti fa mantenere un livello che va al di là cioè che ti fa diventare un campione perché vincere è facile lo stesso Danilo l'ha sperimentato ha vinto al Mugello ha pensato di essere arrivato e poi dopo ha capito che caspita non è così facile poi va in frustrazione le gare cominciano a diventarti difficili cioè mantenere il livello è una cosa impegnativa non è facile senti l'effetto suzuki su rinsea uno dei vostri piloti un ragazzo velocissimo mira è arrivato a destabilizzare è vero che non è debuttante però comunque saranno i grandi segnali è stato detto in trasmissione ieri che onda vorrebbe che vincesse suzuki il mondiale non potendolo vincere loro perché il fatto che lo possa vincere yamaka sarebbe un'onta gravissima per cui questa cosa non la sapevo però onda preferirebbe che vincesse il mondiale la suzuki con rinson con mir sembra ebbe mir in più in più accreditato ti piacciono questi piloti avete parlato con con alex rins di di questo effetto mir o no guarda intanto devo fare i complimenti a davide perché cioè sta facendo un lavoro clamoroso cioè su suzuki io e dall'inizio quando è iniziato col team brivio tutte le volte che lo vedevo dice complimenti bravo per come si è approcciato nel box l'organizzazione hospitality il clima che c'era nel team anche quando c'era caiannone con un po di frizioni lui veramente e mi ricordo quando ho preso mir gli ho detto caspita mi fa guarda mi daranno del matto però io credo in questi giovani a parte che mir poteva prenderlo la dalla onda e non l'ha preso esatto non si è capito perché chi è che non l'ha voluto lì poi che avrà deciso lui per cui per esempio il suo po di turno l'avrebbe preso subito subito e niente per cui è andato molto controcorrente perché ha preso sempre giovani piloti in una squadra ufficiale cosa un po anomala e poi è riuscito a amalgamare le situazioni in maniera tale che la moto è cresciuta come telaio e cresciuta era già buona fin dall'inizio è cresciuta molto come motore per cui una moto guidabile sicuramente mir ha destabilizzato rins questo è matema lui non lo ammette ma è matematico dice ancora i problemi così via però i problemi sono il cronometro ma sì quando arrivi poi a podio non è che i problemi è che quell'altro si è messo a fare quello per cui era stato preso e con consistenza per cui se togli anche che probabilmente non ha vinto in austria perché hanno fermato la gara e non ha avuto il podio perché la storia dell'uscita di spargarò per cui alla fine devo dire il ragazzo cresce senza aspettative poi che vinca la suzuki sicuramente mira in palla non da ridere cioè è molto consistente nei risultati più sempre lì che la cosa migliore boh sarà una battaglia beh però c'è in corsa ancora dovizioso eccessi adesso le man dovrebbe essere una pista un po più favorevole da ducati anche se non si sa perché le gomme pare che siano quelle che arrivano da barcellona per cui morbide ma per gli gradi che ci saranno saranno come fossero dure cioè bisogna vedere che come arrivano settima quando c'era bridgestone e adesso non è che sto io tanto ho avuto con manuel pessino la possibilità di avere piero taramasso e intervistarlo conosciuto una persona veramente preparata io non sapevo che background avesse e devo dire che mi è piaciuto tantissimo però è sotto gli occhi di tutti che ci sono tantissime forse troppe incognite legate alle coperture io ricordo quando c'era bridgestone ma non perché dico bridgestone meglio di michelin no io non ho neanche idea di come sia a guidare con una con l'altra non lo so però minissima ricordare che c'era meno disquisizione da questo punto di vista meno punti di domanda c'era più serenità almeno dai piloti emergeva avevano tante complicazioni ti ricordi non andavano in temperatura volavano è però c'era uniformità di giudizio su queste coperture adesso vedi che arrivano le gomme che da barcellona poi a barcellona portato la gomma dura che piaceva marquez però marquez non c'era però allora c'era una gomma che che piaceva marquez che perché non hanno portato più che io sono un sacco di cose che non riesco a capire come gli amici a casa non non riusciamo a capire perché è così beh nessuno riesce capirlo ti posso solo dire che quando c'era bridgestone la costanza qualitativa del prodotto in termini di rendimento era garantita era sempre la stessa tant'è che diceva sempre lo stesso per cui c'è da dire anche anche questo michelin sembra che non sia la stessa cosa ecco poi positivo negativo da capire sicuramente la c'era una gomma con una costanza di rendimento superiore e che premiava quelli che aveva una guida più cattiva cioè mi ricordo marco quando andava a gresini 2010 che c'era simoncelli marco faceva fatica a far lavorare la gomma davanti perché bisognava caricarla con più peso con più che cioè schiacciarla in termini diciamo tecnicamente e uno più pesante come simoncelli poi ho visto anche danilo con la yamaka 2000 c'era ducati 2014 nel 2015 che riusciva a caricarla di miliugi a far lavorare la gomma per cui al pilota aggressivo non dovevi stare a pensare di non stracciare le gomme di conservarle se il più il corridore si cioè eri più un pilota che doveva dare il massimo sempre adesso devi devi gestire un po come in superbike cioè devi stare attento a non bruciare la gomma in certe situazioni è un lavoro mi ricordo l'anno scorso a misano quando aveva cambiato l'asfalto danilo fece una fatica bestiale chiesi ad ovizioso lui mi disse guarda cioè sei sulle uova devi stare attento a non esagerare perché sono vai più piano ma proprio un lavoro dove ti devi trattenere per un pilota trattenersi penso che non sia una cosa facile perché per andare forte devi non dico andare piano ma devi stare lì a considerare quanto stai spingendo meno è una roba che contro natura ecco certo senti te la vedresti la petronas 2022 con suzuki questo perché qualcuno dice che non proprio tutti in petronas siano stra felici di di avere valentino in squadra c'è l'idea forse era un'altra non lo so mi riportano bene informati addetti al settore ce la vedi una fuga di petronas verso verso suzuki ma non ho non ho informazioni non lo so di sicuro ci saranno due moto in più dovranno esserci due moto in più per cui o suzuki fa due moto o aprilia fa due moto cioè bisogna che qualcuno c'è teoricamente ogni costruttore avrebbe quattro moto non nel 2000 a 10 seconda riesce a stare al passo con con le iponesi e con ducati e con e con ktm scusa sai dipende anche dalla volontà la moto che hanno fatto quest'anno mi dicono che non è proprio male però poi dopo da lì a dire faccio quattro moto piuttosto che so che stanno parlando anche con un po di squadre per cui bisogna vedere sarebbe bello vedere un campionato dove ci sono quattro ducati quattro onda e quattro suzuki quattro piglia e quattro yamaka ecco poi doveva valentino cosa fa valentino sempre un po mistero fratello di valentino pare che era batto venga mandato in superbike dunque fa spazio marini sono tutte queste questi movimenti questi giri di vediamo suzuki sicuramente è come dire la moto più ambita per un team satellite che poi ormai non si può niente petronas petronas ha una collocazione un po diversa da un team satellite normale no cioè petronas è più grosso di dei costruttori per i quali corre per cui no poi razzali un bel bel soggetto c'è uno in gamba una bella bega come direbbe valentino sì no è un bel soggetto un bel soggetto l'ho conosciuto perché era manager di sierin è molto diretto molto deciso cioè bello anche trattare con lui cioè non è uno che ci gira attorno se ci dicono che lui è un po spaventato dall'avere a che fare col mondo vr cioè evidentemente questa è una cosa che io ho detto in trasmissione non mi ricordo a qualche qualche team manager forse a livio forse ne parlavamo con livio nella oretta con suppo e tu ma un manager che si appresta ad accettare nella sua nella sua squadra nel suo mondo che sia ducati suduki yamaka una realtà importante come la vr 46 non teme di vedere andare in secondo piano il costruttore cioè la sua squadra principale cioè capisci entra vr 46 non entra con tutto rispetto no lucecchinello gresini no realtà storiche meravigliose però il peso specifico e politico di vr è qualcosa di diverso no a quello sì però se insomma c'è i vantaggi e svantaggi cioè secondo me vedremo un matrimonio interessante però la squadra di livello le moto sono di livello lui ancora voglia magari viene fuori un matrimonio che la squadra diventa vr che che ne so infatti a quello pensavo no magari non lo so bisogna vedere quelli gli interessi insomma talmente tutto così complicato che casino cioè non so dei sapere tanti passaggi e nel senso che la squadra di chi è di chi sarebbe una roba e l'altra al momento è valentino corre per quella squadra punto poi dopo si vedrà chi cosa faranno cosa non faranno di sicuro lo sponsor lo sponsor pesa pesante che vuol vincere perché vince in formula 1 perché non poter vincere anche in superbike peraltro con sarebbe curioso se il team mi amaca petro ma già come succede adesso sta davanti al team ufficiale anche se ormai sai ufficiale un ufficiale cambia poco più un problema di sponsor secondo me che se io sono la monster e mi sta davanti quarta raro ma storicamente le case non sono felici se vince il team satellite no boss le case direi no magari lo sposo cioè però mi ricordo quando con marco e gibernao in quegli anni di di gresini si stava davanti si lottava per il mondiale no le onde ufficiali indietro e tant'è che l'anno dopo noi dovevamo avevamo un contratto ufficiale hrc che recitava che ogni anno cioè ogni aggiornamento arrivava nello stesso tempo a marco non arriva neanche un bullone ma proprio neanche un bullone niente per cui quello era come dire deve essere così è vero perché la 800 dovevano svilupparla solo per pedrosa per cui non valeva appena perdere tempo con altri però di fatto per iscritto c'erano delle robe che non sono mai verificate cosa è successo a marco cos'è cosa è cambiato nel insomma questione fisica io lo scettico quando ho saputo che ritornava a correre non ero contento perché lo visto talmente sereno con la sua vita allora è stata una situazione ma lui l'ha anche citata praticamente io parlando con barney il suggerivo dei piloti per l'anno dopo lui mi ha detto è verga mi sempre impiato quest'anno non l'anno prossimo e dove prendi marco a non scherzare dopo ma secondo me lo vedo un po così ricaricato allora chiamo marco dico marco guarda che barney secondo me ma capita potrebbe essere una roba simpatica allora poi mi scriveva uno dice stanotte non dormo l'altro dice stanotte non dormo parlatevi così evitati di non dormire e lui quella moto lì voleva provarla la provata gli è piaciuta e secondo me dico un mio punto di vista anche sulla base di una sua riflessione non è che la moto non va bene perché è diversa con le show alle hollings perché marco mi ha detto guarda che non è male ma bisogna lavorarci cioè bisogna fare dei test non si può andare così lo sbaraglio perché il livello anche lì è cresciuto tantissimo 12 marco si è anche spaventato secondo me dall'incidente di cortese perché l'ha visto lì a muro mascherito metto cazzo sembrava morto cioè quelle robe dove ha fatto uno più uno correva zero c'è proprio zero lire era più una sfida che più impegnativa di quello che pensava tiri la riga dici chi me lo fa fare ci ho provato non ci sono riuscito era in effetti una sfida tra virgolette è andata così però non era negativa alla situazione cioè bisognava lavorarci bisognava lavorarci che la moto era buona le sospensioni erano da assiste da adattare alla moto però quando marco ti dice una roba del genere perché vera perché sai che lui è molto tecnico molto molto picchi cioè ogni sfumatura così per cui bisognava fare un percorso che dovevi fare i test in un certo modo come fanno tutti i campioni cioè che preparano la gara pronti via saltar su così è stato un azzardo poteva essere un jolly è andato male perché perché poi dopo l'insieme diventa così però non è stata una roba negativa ed è stata una con le biciclette adesso si è venuto di bici no e si diverte da pazzi mi ha detto che hanno fatto una gara fantastico per cui abbo manito gli è preso sto trip qua dalla bici elettrica e niente lo fa si diverte si sfoga va in giro è un mondo che sta nascendo anche quello è perché mi racconta di un sacco di gente che che magari prima faceva enduro e così via che adesso non possono andare in giro con la moto e invece con la bici elettrica si divertono piace per cui è una roba che sta prendendo piede va bene alberto grazie mille del tempo che ci hai dedicato grazie a pasquale che lì dietro alla telecamera ci vediamo prestissimo grazie ragazzi ciao grazie a tutti